Oggi, con questa azione che la violenza civile non presenta, voglio prendere la nostra prima federazione, perché le nuove, le mie figlie, le mie studenti e le loro vite saranno presto in pericolo per la siccità, le carestie e le migrazioni causate dai cambiamenti climatici. E io sono profondamente grata a Larry Barrow per questa opera di arte pop così simbolica per un consumo insostenibile delle risorse del pianeta. C'è un collasso di ruote che mi ha diventato un po' c'è un imperativo morale di agire, c'è un imperativo morale di agire. E chi è che si occupa del nostro bene? Che cosa sto facendo? Dovrebbero essere i nostri politici a occuparsi di quello che fanno. Che succederà? Ci sarà una crisi ecologica enorme. E nessuno ne parla! Basta! Basta! Bisogna occuparti di questa cosa! È una questione di bene comune! È una questione della nostra società! Ci saranno migrazioni ovunque! C'è stata la peggiore difficoltà negli ultimi 500 anni! C'è stata la peggiore difficoltà negli ultimi 500 anni! Non c'era acqua! Non c'era... E' un'illusione! E' un'illusione! Io vorrei essere a casa mia a fare il lavoro che amo!